Sono Andrea, ho 30 anni e ho deciso di aprire la mia azienda Il Guscio d'Oro nel 2020 dopo aver conseguito la laurea in agraria all'Università di Udine. Fondo la mia azienda su tre principi, etica, rispetto per la natura e i suoi cicli e qualità nei prodotti. Sono fermamente convinto che la qualità parta dalla lavorazione in vigneto, proprio per questo cerco di avere il minimo impatto ambientale possibile. La vendemmia venne fatta esclusivamente a mano. Tutti i miei vini subiscono un processo di fermentazione completamente naturale e una macerazione di almeno 48 ore con successiva torchiatura a mano. Tutti i miei vigneti si trovano nel suggestivo scenario dei Cogli Asolani, i quali con la loro composizione del terreno conferiscono ai nostri vini la tipica salinità percepibile al momento dell'assaggio. Il mio obiettivo è quello di riportare in vita i sapori degli antichi vini di questo territorio, ancora poco conosciuto ma dal grande potenziale.